La mega discarica dei veleni tossici di bussi sul Tirino continua ad inquinare, quanto emergerebbe nella relazione di Art Abruzzo dello scorso febbraio, inviata al Ministero dell'Ambiente e alla Direzione Rifiuti e a quella Servizi Pubblici della Regione Abruzzo, a Ispra e Solvè, attuale proprietaria dell'area industriale. La relazione resa pubblica dal Forum dell'Acqua riporta dati di campionatura delle acque di falda superficiale e profonda con prelievi eseguiti tra l'ottobre e il dicembre del 2015 nelle discariche 2A e 2B situate a monte dell'impianto industriale, nell'area della fabbrica ancora in funzione e nella discarica Tremonti a fianco al fiume Pescara. Le acquavalle della discarica 2B sono risultate essere le più contaminate tra i vari settori, dice la relazione. Nelle discariche 2A e 2B per il tetracloroetilene si tratta di dati 160 volte superiori ai limiti di legge, così come l'esacloroetano 114 volte oltre i limiti. Nello stabilimento industriale a valle della barriera idraulica e nei pozzi spia, il clorulo di vinile, un potente cancerogeno, arriva 10 volte oltre il limite di legge e nella falda profonda a 40 volte il limite. Di rilievo anche i dati relativi ai prelievi sulla Tremonti, che è stata protetta con una palancatura per evitare percolamenti. Di cloroetilene 4.500 volte oltre la soglia ed esacloroetano 149 volte più del limite consentito. Infine, la relazione dell'ARTA raccomanda attività di messa in sicurezza e misure di prevenzione nel minor tempo possibile.